Voi avete già esperienze di registrazione? Io no, io è proprio la prima perché praticamente c'è questo progetto Sì E questa opportunità Ti ha dato l'opportunità Ti ha dato il trampolino di lancio Vedrà che converta direttore Spero di leggere bene Mi sa che sbaglierò un po' di volte Sei la prima volta che registri Vai tranquillo che ci vorrà un attimino per The one take Ottimismo Buona dai Intanto ti metto in cuffia e comincia ad abituarti a fattore a cuffia La tua voce la senti bene in cuffia? Allora Devi sentirla sparata anche se ti sembra alta La sento però non troppo alta Allora metti davanti però parla Blah blah Sì adesso la sento molto di più Ok Possibile anche un suo parco nazionale E si trova sulla riva meridionale Il Garda sta morendo L'Italia nei disastri c'è sempre dentro Ok Il Garda sta morendo L'Italia nei disastri c'è sempre dentro E' un onore lavorare per questo progetto Questo confuscio per l'ambito sembra perfetto Questo confuscio per l'ambito sembra perfetto E' un po' di più E' un po' di più Va bene va bene andiamo andiamo Aspetta parti quando cominci a parlare Ok ok quando cominci a parlare Anzi parti da lì adesso Prendi il ritmo vai Un passo e sei in centro eh Resta alla velocità della camera Caldo eh Perfetto la luce è perfetta Quasi un po' E' un onore lavorare a sto progetto Questo concorso per l'ambito Più incazzato Perfetto I lag interessati sono ben quattro I lag interessati sono ben quattro Questo dialogo sul clima Ora lo attuo Bello Lago Balaton voglio cominciare Luce va bene oppure è troppo Troppo proviamo Anche quello Cosa facciamo adesso? Anche una volta dai Uno Due Tre Quattro Fai così Fai di nuovo il ritornello Il tuo nome? Elisa Tu? Christian Tu? Christian Ancora? Christian Il carno sta morendo L'Italia dei disastri c'è sempre dentro Fai di un paletto Il carno sta morendo L'Italia dei disastri c'è sempre dentro Il carno sta morendo Il carno sta morendo Il carno sta morendo L'Italia dei disastri c'è sempre dentro Il carno sta morendo Il carno sta morendo Il carno sta morendo Il carno si è molto più e azione no tu sei davanti a lei è andato troppo avanti via 3 2 1 stop un po' più vicini allora devi entrare in inquadratura quindi all'altezza dell'alte stop stop vai avicina 1 2 1 Grazie a tutti.